Due esposti, uno alla Corte dei Conti, l'altro alla Procura della Repubblica. L'obiettivo di D'Alfonso è fare chiarezza in merito a circa 12 milioni di euro spese all'interno della legge regionale di stabilità 2023. La querelle riguarderebbe un finanziamento a pioggia a beneficio di due associazioni della provincia di Pescara che si sarebbero presentate nella competizione elettorale. Non si replichi il caso De Fanis, rimarcato da Alfonso facendo riferimento all'inchiesta Vate sull'erogazione di contributi regionali per le manifestazioni culturali. Qual è la regola per entrare a far parte degli elenchi dei beneficiari? Una risposta che il deputato attende dalla Regione. Ho visto il tentativo fanciullesco di testa Guerino che ha provato a darsi una testata ma non mi è sembrato che abbia aggiunto qualcosa al dato di verità. E poi c'è stata una specie di quasità di comunicato stampa da parte di Sospiri che dice che se ci sono problemi strada facendo verranno corretti. Come se fosse una pratica degli usi civici di Foggia. Non si coglie il valore di questa offesa al procedimento pubblico. E altre spiegazioni questa volta sono state richieste in merito ai meccanismi delle nomi non potroppo a caldo a voler usare le parole del deputato Dem come quelle di Stefano Cianciotte e di Nicoletta Salvatore che compaiono nel Consiglio di Amministrazione della Fira. Dovevano sottoporsi ad un periodo di raffreddamento e secondo me non sono stati informati. Mi aspetto che l'autorità anticorruzione della Regione glielo dica perché se c'è un ente che ha visto impegnato un cognome o con Cianciotta o con Salvatore quelle due figure Cianciotte e Salvatore si devono poi sottoporre al raffreddamento per poter rimettersi in cammino per avere un altro incarico perché altrimenti dice il legislatore nazionale non c'è la genuinità della valutazione e non si esclude fra un anno o due quello che prevede come raffreddamento che possano tornare in campo sia Cianciotta e Salvatore e io dico loro che possono determinare come sanzione che chi li ha nominati poi vengano inibiti dal fare altre nomine perché questo prevede la legge. Cosa unisce questi due punti? Il fatto che abbiano confuso persona fisica e persona giuridica. Uno può avere tutta la stima che vuole nei confronti di una persona fisica. Io per esempio ho simpatia ma questo non mi esclude da rispettare le regole riguardanti le personalità giuridiche degli enti. Uno non può fare tarzan tra un ente ed un altro se non rispetta le regole del gioco.